Vanessa Leone, giornalista e scrittrice, ha scritto un libro Momo è il pianeta dei bambini. Di cosa parla questo libro? Qual è il messaggio che vuole fare scaturire da questo libro? Il libro è nato da un'esigenza di voler lasciare una traccia fatta però per i bambini. Quindi chi scrive il libro di solito è perché vuole comunicare qualcosa, vuole comunicare qualcosa di sé o del mondo che lo circonda. Io amo i bambini e il mondo dei bambini quindi mi sono venuta a dedicare proprio a loro. Il protagonista del libro è Momo ed è un alieno che viene da una stella e per un caso fortuito si ritrova sulla Terra, un pianeta per lui sconosciuto. Tratta il tema della diversità perché Momo incontrerà tanti bambini che gli faranno capire quali sono tutte le nostre emozioni, i nostri sentimenti e grazie a lui i bambini riusciranno a superare tutta una serie di paure tipiche dei bambini. Il suo libro è stato letto ed è stato trasformato in sceneggiatura. Assolutamente sì. Enzo Di Paola, insegnante di scuola primaria, ha letto il mio libro e è rimasto a quanto pare colpito. ha chiesto di poter lavorare insieme per poter trasformare il libro in una sceneggiatura per il teatro e ce l'ha fatta e alla fine è venuto fuori un bel lavoro. Professore, da cosa nasce questa idea di trasformare questo libro in sceneggiatura? Sicuramente nasce da due cose. La prima cosa è di aver letto il libro, di averlo apprezzato e di averne fatto oggetto di lavoro anche con i bambini a scuola. Fra l'altro i bambini si sono entusiasmati in una maniera incredibile. Da questo entusiasmo dei bambini, da un incontro che i miei alunni hanno fatto con Vanessa un giorno qui fuori, fra l'altro in una bellissima giornata, da lì è cominciata a maturare l'idea che se ne poteva ricavare anche una pièce teatrale per bambini sempre. Fra l'altro io al teatro Gianni mi occupo di teatro per bambini, di teatro per le scuole. Quindi è stato facile per me pensare che quest'opera potesse diventare una rappresentazione teatrale per i bambini perché ci sono molti contenuti, molti spunti interessanti, molte storie dalle quali si possono ricavare tanti messaggi. Anche perché i bambini rappresentano il nostro futuro. Certamente, io lo faccio anche per mestiere, faccio l'insegnante, però ritengo sempre che i nostri bambini sono appunto come si diceva il nostro futuro. Quindi lavorare per i bambini, con i bambini è un'esperienza entusiasmante. Quindi ora abbiamo trovato dei giovani attori di Partinico che hanno lavorato su questo testo. Lo abbiamo, come dire, trasformato un po' perché per esigenze teatrali bisognava prevedere alcuni accorgimenti. Però credo che il lavoro che abbiamo fatto è un ottimo lavoro e ora lo offriremo un po' alle scuole, ai bambini e cominceremo a fare delle rappresentazioni e speriamo che riscuota lo stesso successo del libro. Cosa prova nel vedere il suo libro Scena? L'effetto è un po' strano, anche perché si ha la percezione di avere proprio creato un personaggio, no? E quindi vederlo poi, poi lo vedrete voi con il personaggio, con il ragazzo che lo interpreta, vederlo rappresentato lì in carne e ossa fa un bel effetto. Per il futuro altri progetti, magari scriverà qualche altro libro? Sì, molti bambini mi hanno chiesto il sequel di Momo perché vorrebbero che Momo tornasse sul nostro pianeta. Su questo ci sto lavorando. Nel frattempo però, con la collaborazione con Enzo, è nata l'idea di un progetto insieme con un protagonista speciale per Partinico. Posso chiederle di cosa si tratta? Beh, io non vorrei dirlo, però già che lei mi fa la domanda... Sì, io sono stato un collaboratore di Danilo Dolci. Per me Danilo Dolci è stato sempre un punto di riferimento. Fra l'altro ho insegnato una vita a Mirto, che è la scuola fondata da Danilo Dolci, e mi è sempre capitato di raccontare ai bambini, favoleggiando un po', naturalmente, la storia di Danilo Dolci e delle sue iniziative per lo sviluppo del nostro territorio, raccontandola in maniera così semplice, con un linguaggio semplice. E ho visto che i bambini si entusiasmavano a queste storie, la diga, i contadini, i pescatori, la fame che c'era una volta, le difficoltà. E allora da lì è nata l'idea, ma perché non scriviamo qualcosa per i bambini, con un linguaggio adatto ai bambini? E offriamo la storia di Danilo Dolci proprio per i nostri bambini, per la memoria che non deve essere persa. E cominciamo proprio dai bambini, perché talvolta nel nostro territorio abbiamo delle situazioni in cui ci si trova ad essere smemorati. Invece noi abbiamo una storia che dobbiamo recuperare e dobbiamo farla diventare uno strumento per vivere meglio e costruire il nostro futuro.